In un momento di crisi è necessario pensare e ripensare la nostra società. La crisi deve diventare una transizione verso un nuovo modello, ecco perché Udine e il Comune di Udine si è impegnato molto sul tema della misura della felicità. Il reddito è importante, non è più sufficiente, non è tutto ciò di cui abbiamo bisogno, non è tutto ciò che può riempire i nostri orizzonti di vita o alle nostre attività quotidiane. Per fare un esempio, quando si parla anche nella cronaca, quando si acquistano le telecamere per la sicurezza, questo aumento al PIL però non è certo una misura di obbedienza della nostra società. Ecco che quindi dobbiamo avere uno sguardo più ampio e oggi appunto presenteremo i primi risultati di questo progetto che ha coinvolto tutte le scuole della città di Udine e che darà alle persone che si occupano della cosa pubblica, sia dei decisori pubblici, della Camera di Commercio ma tutta l'amministrazione di Udine, degli spunti importanti per dare sempre di più risposta, sempre meglio risposta alle esigenze dei cittadini.